Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Big P che mi chiede di parlare del film del 2013 di James Mangold Wolverine l'immortale dopo quella merda di X-Men Wolverine le origini che era insopportabile è un pochino meglio nel senso che gli effetti speciali sono fatti meglio combattimenti non sono brutti ma il resto è veramente una merda perché purtroppo Mangold dirige anche con buona mano ma la sceneggiatura che tratta da un fumetto di mille veramente fa acqua da tutte le parti la cattiva Viper non sa di un cazzo e la storia alla fine è veramente un cazzatone al di là del fatto che il nostro praticamente è morta James Gray nel terzo l'ha dovuta ammazzarci al giramento di palle quindi non vuole più fare del male a nessuno ma viene contattato praticamente da questo Yoshida che è un uomo che noi abbiamo visto che lui ha salvato nel 45 che sa dei suoi poteri che è sul letto di morte praticamente lo chiama Tokyo il nostro reluttante decide di andare una volta lì che americamente fa conoscenza della giovane dolce marico la nipote di Yashida e figlia di Shinjen ovvero il figlio di Yashida è morente e chiaramente il nostro Yashida dice visto che Logan la vede come una maledizione passa a me i tuoi poteri di guarigione e tutto il resto così io divento mortale e te tornino mortale il nostro dopo un po' di tentenamenti rifiuta e decide praticamente di rilevarsi dal cazzo il giorno dopo ma il giorno dopo in realtà è impossibile andasse perché Yashida muore durante la notte e viene rapita appunto marico e il nostro mentre fa i combattimenti si rende conto che non ha più il potere di rigenerazione e quindi è successo qualcosa qualcuno gli ha messo qualcosa in corpo diciamo così e il nostro quasi senza potere in quel senso deve riuscire a combattere e portare a casa il tutto alla bisogna di che film ripeto Mangold c'è una mano che ce la può anche fare ma la sceneggiatura è veramente terrificante passa da una cosa all'altra senza alcun senso il montaggio secondo me è sbagliato troppo veloce nonostante ripeto stavolta almeno gli effetti speciali funzionano però Wolverine Hugh Jackman veramente è l'unico che riesce a lasciare un minimo disegno il resto è di una piattezza e male per un film dove non c'è un cazzo poi un supereroe che la sua super forza è generarsi e non riesce a fare un cazzo perché sembra semplicemente Hugh Jackman che picchia tutti è veramente a volte di una noia mortale ora a rivederlo per questa mini recensione mi ha fatto un po' meno cade l'ultima volta l'avevo visto che proprio mi era sembrata spazzatura totale riguardarlo sì qualche momento c'è l'ambientazione è bella però un'altra volta secondo me si patina troppo e non si riesce a tirar fuori veramente una storia che coinvolga che lascia veramente bene che riesca a colpire poi è troppo buono il film non ha la cattiveria giusta non ha nemmeno le facce giuste secondo me degli altri attori che non riescono a sfondare e nonostante siano interessanti per esempio il flashback nel 45 di come lui insomma nella guerra e tutto il resto però poi il resto sembra voler mangiare dietro una cosa dietro l'altra senza mai mai dare il senso di quello che però si sta mangiando perché è tutto veramente affastellato l'azione vince su tutto e alla fine i personaggi sono distillati con le goccette e si rimane lì a guardare un film che tutto sommato è prevedibile dall'inizio alla fine e che non lascia mai 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 il segno e che insomma è veramente un'altra volta un modo per far capire come tranne Logan che gli è riuscito abbastanza bene come questo tipo di film non riescano a venire fuori in questo modo così pilotati così legati a un certo determinato stile che deve essere quello e secondo me è un film dove la regia di Mangold è solamente di mestiere e non si riconosce la bravura del nostro autore così come tutto quello che è messo nel mezzo dalle musiche di Beltrami che brutte non sono ma sono usate a sproposito perché devono sempre gonfiare l'azione mentre il montaggio di McCasker secondo me va ogni tanto a slotta ogni tanto con il buon gusto la fotografia di Ross Emery è troppo patinata ripeto la messa in scena è buona nel senso ci sono dei movimenti di macchine interessanti qualcosa c'è però alla fin fine dà proprio l'idea di essere il classico film non riuscito cioè nel senso che non riesce a dare quell'epica quella forza di un personaggio sofferente che sembra tutt'altro poi ripeto Hugh Jackman c'ha una buona faccia ma è il personaggio che funziona perché lui sembra essere anche stanco in un certo senso di interpretarlo e poi insomma ripeto botte da orbi ci si può divertì però porca miseria si è visto veramente di meglio se è visto anche di peggio all'astra grande però questo è un film che insomma sembra un classico film d'azione di serie B pieno zeppo di soldi però con una sceneggiatura che fa acqua da tutte le parti e che poi più su soprattutto come ho detto non riesce a donare forze personaggi a quali non ci affezioniamo minimamente e quindi rimaniamo attaccato solo a Wolverine perché l'abbiamo già conosciuto in 6.000 film molto meglio o molto peggio di questo fate un po' in voi resta il fatto che per me questo film al limite li potete dare un'occhiata ma è veramente un cinefumetto di quelli proprio modesti che non lasciano mai il segno e che non hanno nemmeno un'inquadratura secondo il sottoscritto che valga davvero una pena insomma per me è un film assolutamente perdibile ma che comunque se amate questo genere un'occhiata se la merita come ho detto il link è qua sotto sul patrio mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su youtube seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'italia e poi come ho già detto insomma mille volte nei cinefumetti poi hanno iniziato a farne veramente troppi c'è troppa quantità e quindi la qualità andava a scendere Wolverine hanno cercato di sfruttarlo e strizzarlo fino all'inverosibile e l'unico film secondo me decente appunto è Logan che è un film discreto non quel grande film che dicono però è un bel film un film che si guarda volentieri a differenza di questo immortale che ogni tanto fa due palle così e che è veramente troppo patinato e che ha una logica di film di serie B che però viene portato avanti con tutti i soldoni della serie A e si perde ogni fascino praticamente tranne quello appunto di qualche combattimento azzeccato per il resto noia mortale e quindi